Attenzione, siamo proprio al passaggio, vediamo le staffette, io guardo la zona della Vittoria e vedo le maglie nere di San Giovanni che stanno arrivando in carta con l'applauso in questo momento, seguite da un'errore, 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 un'errore a seguire la comunità di San Giovanni che fuori tigra al منato, pię も四 rossi eselsopoli щo, amici salvo le stagnie nuoc mobile bagliache giochino allez cerchercheriche da stagione nei sedi più vittori usando il consente di questa Sono le maglie bianche di Funer seguite con ogni probabilità da quelle nere di San Giovanni, ragazzi in parte, una salita strenuante, tutti in parte ragazzi, tutti fuori, lasciamo solo le squadre per il cambio all'arrivo perché ci sarà un altro giro completo da fare, cresce l'applauso, cresce l'applauso in piazza Marconi, Funer davanti a tutti in questo primo tiro, sono sfiniti ragazzi, è una salita che taglia le gambe, il peso della botte, la fatica della spinta, signori Funer in testa, parte il secondo giro per i ragazzi di Funer, applauso in piazza Marconi per Funer in testa, che distacco signori, che distacco, dietro vedo San Giovanni, San Vito e San Col, un terzetto a rincorrere le maglie bianche di Funer. Stremati, stremati questi ragazzi, hanno dato tutto, hanno dato tutto e ora c'è il cambio, e ora c'è il cambio, applauso per San Giovanni in piazza Marconi, applauso per San Vito, applauso per San Col. Ed ora, al traguardo, arriva il grosso del gruppo, occhio perché arriva il grosso del gruppo, con i ragazzi di Guia. Grazie.